buonasera e ben ritrovati nuova puntata di angoli io come sempre vi ricordo subito il nostro indirizzo mail angoli chiocciola espansione tv punto et mi raccomando scriveteci in questa prima parte della puntata abbiamo due ospiti siamo in compagnia di chiara milani autrice e di elena borghi grafica e illustratrice buonasera entrambi buonasera allora uscito da poco il vostro libro eccolo qua si intitola cambiamenti e appunto vede lei chiara come autrice dei racconti che contiene e mentre le illustrazioni sono su elena partiamo dal come è nata l'idea di questo libro che anche molto particolare lo si vede anche come dire nell'impaginazione nella cura dell'edizione bene diciamo che in realtà dalle dolci pressioni di amici parenti e conoscenti che mi hanno stimolata a scrivere perché io come scrivo nella terza di copertina scrivo racconti fin da bambina più o meno lunghi tendenzialmente racconti molto brevi molto succosi ed insi perché mi piace la scrittura ben calibrata e molto breve dire magari tante cose in pochissimo spazio racconti che tanti mi dicono le tue poesie in realtà sono piccoli racconti e quindi insomma dopo averci pensato tanto ho ceduto a queste dolci pressioni e ho deciso di pubblicare una scelta di sei di questi racconti io in realtà scrivo da sempre fin da bambina e come ho scritto nella terza di copertina addirittura scrivevo nel rifugio che papà aveva costruito sull'albero in giardino da bambini io ero pollaiata in questo rifugio a leggere scrivere e disegnare quaderni e quaderni di cose poi insomma la vita di tutti i giorni porta al proprio lavoro anche se la passione per i libri ha fatto sì che questa passione diventasse un lavoro ma ho sempre scritto articoli su riviste specializzate attinenti alla cultura o al mio campo professionale e ho accantonato un pochino quest'idea del racconto poi così forse era anche un momento nella mia vita in cui era giusto che questa cosa emergesse così anche con l'idea di fare diciamo un regalo un po a tutti quelli che mi conoscono e che mi hanno suggerito di pubblicare abbiamo scelto alcuni di questi racconti e però insomma volevo che il libro fosse assumesso insomma una veste un po' particolare e quindi con l'editore Carlo Pozzoni abbiamo proprio cercato di renderlo più bello possibile e devo dire che l'editore mi ha suggerito di incontrarmi con Elena Borghi che è un'artista fantastica e che non solo ha illustrato questi racconti perché dire che illustrato è riduttivo perché Elena davvero ha saputo interpretare anche un po' la filosofia di questi racconti varie poesie con delle illustrazioni veramente incredibili peraltro sì si vedono all'interno e noi riusciamo a farvele vedere anche relativamente però all'interno appunto ogni racconto è affiancato da delle illustrazioni ma la cosa interessante è che di questo libro sono state fatte due versioni in edizione una prima diciamo è quella che ho in mano io con la copertina standard dell'altra invece sono delle edizioni particolari ecco la stai tenendo in mano tu Elena sì ognuna è diversa dall'altra sono edizioni in tiratura limitata sì allora tutte queste di questo libro è tutto in è un'edizione limitata sono 150 copie a stampa numerate e poi ci sono 33 di queste copie che sono ognuna ha una copertina diversa disegnata a mano da Elena Borghi per cui oltre alla tiratura ci sono queste tirature che fanno di questo libro un libro d'artista perché appunto sono ogni davvero ognuna è diversa dall'altra poi Elena ha fatto anche il suo ragionamento sui colori di questo libro che abbiamo anche fatto insieme ma senta ci sono sei racconti racchiusi all'interno di questo libro c'è un Firouge che lega uno all'altro o hanno ciascuno vita propria come è che li ha anche scelti perché ci ha svelato di averne un cassetto pieno come è che è arrivato a prenderne questi sei allora il Firouge è il titolo è cambiamenti c'è un punto nella propria vita penso nella vita di tutti in cui o si ha voglia di cambiare o si porta avanti una riflessione di carattere personale su quello che è stato il proprio passato su quello che si vorrebbe che fosse il futuro ripescando anche i sogni i sogni che si fanno tutte le sere i sogni di quando si era bambini quindi si fa un pochino il punto della situazione io ho voluto farlo attraverso questa riflessione ma non parlando di esperienze mie personali ma anche a guardarmi intorno quindi vedendo come sta cambiando la società come sta cambiando la vita per i ragazzi di oggi come sta cambiando il mondo della cultura e ho cercato un po' di interpretare questa cosa che sentivo nell'aria e la cosa che mi ha fatto molto piacere è che chi li ha letti ha proprio dato per ogni racconto delle interpretazioni diverse che hanno stupito anche a me perché io pensavo di aver detto alcune cose invece chi ha letto questi brevi racconti li ha fatti propri e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere mi ha gratificato e li ha riletti attraverso i momenti di cambiamento della propria vita e quindi forse vuol dire che l'obiettivo che mi era un po' proposta è stato centrato e la scelta forse è una scelta che ha potuto riscontrare una condivisione in chi appunto ha letto i racconti e li ha commentati Certo. Elena, com'è che appunto si illustrano questi cambiamenti? Allora... Che cosa ha attinto dai racconti? Volevo fare una premessa, ho conosciuto Chiara casualmente perché ci siamo conosciute da pochissimo mi è stata presentata, ho conosciuto Chiara ed è stato un amore a prima vista direi Confermo Perché un amore a prima vista ho letto, lei mi ha fatto leggere questi racconti e vabbè la prima emozione che ho avuto è che ho pianto sinceramente ho pianto perché appunto come diceva lei nella vita ci sono dei momenti di cambiamenti difficili ma anche che possono dare dei risvolti molto positivi quindi ho letto questi racconti e ho cercato di buttarmici dentro proprio mi sono immersa in queste cose, ho cercato di lavorare su queste cose io faccio disegni per tessuti ma faccio anche, dipingo anche quindi il mio mondo è sempre stato un po' un mondo di cose grandi, molto grandi, molto importanti, molto imponenti io faccio quadri abbastanza grandi quindi questa cosa è stato un risvolto direi positivo perché ho capito che si può dare una forza anche nelle cose piccole ho letto queste cose e ho cercato di interpretarle come sul rosse e nere io amo molto questi colori, hanno molta forza secondo me e quindi ho cercato in ogni racconto di capire quello che potevo aver capito io in queste cose perché sono delle poesie, delle liriche, delle cose molto belle che ho cercato di illustrarle spero di esserci riuscita io direi di sì e anzi io come spero anche chi leggerà i racconti io stessa sono rimasta stupita dell'interpretazione di Elena che ha fatto leggere a me stessa delle cose diverse che pensavo di non aver detto in questi brevi racconti e quindi davvero la lettura non è mai passiva non c'è uno scrittore, un lettore il lettore quando legge interpreta la lettura coglie alcune cose che vanno anche al di là di quello che pensava di poter comunicare allo scrittore questo è il bello e il fascino anche della lettura e poi il fatto che questi libri siano non soltanto dei libri ma ne abbiamo voluto fare degli oggetti con una storia e che proprio anche nella loro veste grafica possano essere belli e possano essere oggetti di conoscenza è scaturita appunto da questa riflessione direi anche un po' tutta femminile perché è il rapporto mio e di Elena ma anche la bellissima grafica studiata da una giovane grafica Alice Fattorini che tra l'altro ha suggerito la legatura con questo cordoncino di seta rossa in omaggio anche, lo vedete, alla città di Como, la città della seta e poi per ricordare anche le legature dei libri giapponesi perché Alice parlando tra di noi ha saputo che a me piace molto la cultura e la letteratura giapponese anche nella veste di presentazione dei libri e quindi diciamo che questo libro riassume un po' un percorso femminile è stata anche una bellissima esperienza lavorare insieme con donne io e Elena siamo coetane, Alice è molto più giovane di noi però è stato un bellissimo rapporto infatti come dice Carlo Pozzoni, il nostro editore è un progetto tutto femminile è un progetto tutto femminile ma invece i protagonisti dei racconti chi sono? allora i protagonisti dei racconti sono, no, non ci sono nomi sono persone, entità, c'è anche una formica, una protagonista del racconto e anche un gatto che però forse non è un gatto e quindi sono volutamente interpretabili proprio perché siano come delle trame aperte e non dei racconti chiusi ci sono mie amiche che mi hanno detto ma non abbiamo capito il finale in due di questi racconti io ho detto il finale non c'è, il finale lo scrive il lettore ecco sono spot il lettore può scrivere il finale può ricamarci sopra può dare appunto la propria interpretazione beh direi che ci avete incuriosito abbastanza a cambiamenti Chiara Milani, Elena Borghi per le illustrazioni eccolo qua grazie mille per essere state con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi qualche istante di pubblicità ma torniamo davvero tra pochissimo con la seconda parte di Angoli mi raccomando restate con noi